eccoci qua ragazzi per un nuovo video vi avevo promesso che vi faccio vedere il massive della pulsar audio che il nuovo plugin il nuovo la nuova emulazione del ecolizzatore a quattro bande della della manley massive ecolizzatore appunto che è un'unità rec vera il manley ecolizzatore è formato da quattro bande bassi alti medio bassi medio alti dove bassi e alti possono essere trasformati da shelving a campana e anche gli alti da shelving a campana ma la figata passatemi il termine scusatemi per il termine di questo ecolizzatore anche nella vita sua reale quindi anche in versione hardware proprio fisica vera è che anche i medio bassi medio alti possono essere commutati da campana a shelving questo ci permette di ripeto sia nel plugin che lo emula perfettamente completamente sia nella macchina vera reale ci permette di fare e di applicare il famoso trick sulle basse frequenze di aumento e taglio la stessa frequenza e vediamo come si fa ve lo faccio vedere tant'è che questo ecolizzatore è un ecolizzatore passivo gli ecolizzatori passivi vi ricordo sono ecolizzatori parlo di quelli veri hardware fisici ecolizzatori che non hanno uno stadio di ingresso alimentato ma possono avere lo stadio di uscita alimentato per bilanciare i tagli o gli adding che noi applichiamo appunto nostro segnale soprattutto i tagli per bilanciare questi tagli chiaramente il volume deve essere ripristinato riaumentato in uscita in uscita il circuito può essere del tipo a valvole quindi quelli di una volta anni 40 50 60 o di tipo transformer col trasformatore o altri sistemi ok questo è passivo con circuito di uscita con trasformatore ok fatti emulano un circuito 1 che se ci vado su vedete il pop up che mi fuoriesce e mi viene visualizzato dove dice off è disabilitato il trasformatore quindi così 1 siamo sul circuito emulato della macchina originale vedete 1 1 emulation of the original hardware sul 2 quindi cliccando direttamente sul numero abbiamo un custom pulsar modification del circuito quindi è il circuito uno originale della macchina leggermente customizzato barra modificato dalla pulsar audio questo ci fa godere di due circuiti diversi che a cui possiamo e che possiamo applicare il nostro suono e quindi ci dà la possibilità di variare appunto lo stadio di di uscita e quindi il tipo di trasformatore e quindi il tipo di colore che la mia macchina in questo caso il mio plugin ma che è una macchina vera quindi da al nostro segnale allora andiamolo vedere velocemente ve l'ho già fatto vedere anche nell'altro video dove abbiamo visto in azione quindi non sto ripetervi tutto le quattro bande le abbiamo viste possibilità di lavorare in lr quindi sul segnale left right e vedete infatti left a sinistra right a destra o se pigio su questa levetta mid side e vedremo a sinistra il mid e magicamente a destra il side poi posso lavorare con i canali rispettivamente quelli di sinistra e quelli di destra scollegati o col rimetto un attimo nell'r per comodità o collegati semplicemente cliccando su qua vedete che adesso in grigino sono scollegati se io aumento per esempio vedete l'ultima banda sulla sinistra sulla destra rimane fermo doppio clic torno indietro se io clicco qui da grigino diventa bianco muovo questa levetta questo potenziometro delle alte e vedete che il gain del potenziometro si aumenta anche sulla parte sinistra e se vado in mid side stessa cosa doppio clic si azzerano entrambi perché li ho linkati li lascerò per comodità linkati poi abbiamo un autogain per mantenere circa il valore dell'uscita audio circa pari al valore di entrata e poi abbiamo il solito menu che vi ho fatto vedere l'altra volta l'oversampling lo vediamo subito allora rimaniamo per esempio in armonica in analysis con il plugin doctor della ddmf vedete onda sinusoidale l'ho impostata a 1000 hertz a meno 18 decibel fs questi sono meno 18 decibel digitali quindi in questo plugin arriva un segnale intorno agli 0 decibel in scala analogica non full scale questa è la full scale cioè digitale meno 18 vada ad entrare il segnale nella mia macchina ad alimentare il segnale all'interno della mia macchina a meno e scusate a 0 circa decibel in scala analogica quindi se avessi il v meter dovrebbe segnare 0 questo infatti non sono v meter ma sono emulazioni di meter digitali e infatti segnano meno 18 non 0 a no però qui la scala interna è 0 ok quindi i due esterni sono in e out con il meno 18 perché sono digitali ma al centro abbiamo la scala in analogico quindi questa è una scala non in full scale quindi in digitale ma in scala analogica fate vedete i meno 18 a cui faccio entrare nel mio plugin il segnale corrisponde lo 0 analogico quindi nella mia macchina se ci avessero messo due meter emulazioni di meter analogici quindi v meter segnerebbe la lancetta 0 come lo segna qua diciamo è stato digitalizzato questo umiter anziché con la lancetta in stile analogico l'han fatto digitalizzato ma segna comunque lo 0 meno 18 vedete corrisponde a 0 ora drive via partiamo bomba drive aumentiamo vedete che non ho ancora insorgenza di armoniche al segnale qui siamo circa a più 17 decibel è appena appena comparsa un'armonica intorno ai 3000 hertz ripeto questa è mille è una onda sinusoidale pura di mille hertz quindi un kilo hertz mi si forma la prima armonica 3000 non è un multiplo diretto di mille multiplo diretto di mille il doppio 2000 il doppio di 2000 sua volta sarebbe 4000 quindi sarebbe qua queste 3000 non è un multiplo diretto quindi è un armonica dispari la prima andiamo aumentare ancora vediamo cosa succede comincia ad aumentare un po però vedete che sono quasi al massimo a 23,7 decibel è un'armonica bassissima però intorno ai meno 175 decibel quasi impercettibile direi aumentiamo ancora ecco qui o la la qui abbiamo allora fino a 29 quasi 30 abbiamo che l'armonica sale leggermente a meno 159 decibel quindi anche qua molto bassa rispetto al segnale e all'onda semisoidale pura entrante e poi vedete che da più 29 a 40 quindi quindi più 30 circa più 40 intorno a quei 10 decibel di aumento finale qui abbiamo un aumento vertiginoso delle delle armoniche quindi vuol dire che praticamente tradotto in soldoni da 0 fino a più 30 35 non succede niente più 30 non succede niente dai 30 ai 40 abbiamo il mondo e vedete che abbiamo anche un po di aliasing armoniche che tornano indietro e scendono al di sotto della mia frequenza fondamentale che sono i 1000 hertz quindi ma siamo come vi ho detto prima con l'over sampling and off andiamo sul real time che è quello che deve lavorare adesso proviamo due per già pulisce bene ma abbiamo ancora delle armoniche che leggermente tornano indietro quindi over sampling 4x e vedete che si è pulito ulteriormente qualcosa torna ancora indietro ma si è pulito rispetto a 0 sicuramente si è pulito alla grande arriva 4x non va più giù è almeno mi sembra di vedere così quindi lasciamolo ripeto da 0 niente aumentiamo aumentiamo compare la l'armonica dispari questa che siamo vedete quasi al massimo aumentiamo ancora 29 e c'è ancora solo lei come scatta no 30 c'è ancora solo lei 32 vedete abbiamo il marasma di armoniche che saltano fuori quindi ne salta fuori una a 2000 che è il doppio stavolta della fondamentale di 1000 quindi è un'armonica pari poi abbiamo quella di 3000 di prima che è dispari poi abbiamo quella di 4000 che è un multiplo di quella 2000 perché il doppio quindi è pari ancora poi abbiamo la 5000 che è una dispari eccetera eccetera vedete quante ne saltano fuori ma siamo quasi al massimo se lo metto al massimo è così con comunque un po di aliasing quindi per non avere tutto questo aliasing qua dovrei stare intorno ai più 36 non andare proprio al massimo col potenziometro del drive quindi è colorato ma non è un colore graduale che aggiunge ma è un colore che dà praticamente tutto sul massimo poi non è finito tenete conto che il gain di ingresso l'ho mantenuto in default cioè a 0 ma anche lui va da meno 12 a più 12 vedete che se lo aumento rispetto a quando era 0 le armoniche aumentano ulteriormente quindi colora ancora di più infatti anche a valori più bassi del drive vedete che le armoniche persistono rimangono la comparivano con con il gain a in default a 0 comparivano intorno ai 30 più 30 decibel qua compaiono già vedete intorno a più 18 19 decibel perché ho il gain potenziato quindi mando un segnale maggiore all'interno della macchina quindi saturo prima e di più saturo prima e di più ok questo è il gioco delle armoniche andiamo a vedere linear analysis allora la firma del mio la firma del mio ecolizzatore è questa elettrocardiogramma direi quasi piatto da 10 hertz a 2000 hertz 2000 hertz anzi un po di più 2500 2600 hertz comincia a aumentare leggermente tipo shelving tipo avessimo applicato un filtro shelving aumenta aumenta fino intorno alle 10 11 mila e poi torna a scendere un po a calare fino a oltre 20 mila per avere il roll off classico analogico finale sulle altissime frequenze però anche sotto i 10 hertz abbiamo questo aumento chiamiamolo questo bump tipo anche qua filtro shelving che dai 10 fino agli 0 aumenta ma ripeto sono frequenze dai 10 in giù che difficilmente il nostro orecchio riesce a percepire anche se in realtà le sentiamo no anzi chiedo scusa noi sentiamo da 20 a 20 mila quindi sotto i 20 hertz facciamo fatica l'aumento è proprio sotto i 20 hertz quindi non siamo in grado di percepirlo ok andiamo provare il gain e il filtro delle alte in shelving vedete che aumenta ma nel contempo abbassa anche un po con uno snodo intorno a 394 mila hertz filtro che è impostato così di default e sulle 12 mila se lo metto 27 mila guardate cosa succede aumenta 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 ma cala contemporaneamente la frequenza poco prima quella di taglio quindi le 5 mila calano per aumentare dai 10 mila in su l'ho impostato 27 mila quindi questa per esempio è una caratteristica vuol dire che da molto volume alle frequenze dai 10 mila in su quindi proprio l'aria ma contemporaneamente cala di meno 6 decibel quindi abbastanza in modo rilevante intorno ai 5 mila 5 mila e 5 quindi c'è uno svuotamento poco prima della frequenza in cui interviene quindi anche se è impostato il filtro 27 mila comincia a intervenire 10 mila poco prima di questa frequenza lui taglia se lo metto per esempio a 16 mila anche qui aumenta e taglia un po' ma taglia un po' prima rispetto ai 5 mila e 5 di prima taglia intorno ai 3 mila e 8 12 mila non fa questo scherzo qua non lo fa non lo fa non lo fa non lo fa 1.800 non lo fa 1.200 e non lo fa 8.20 non lo fa 5.60 non lo fa quindi lo fa proprio dai 16 ai 27 mila che tra l'altro infatti come frequenze sono indicate in rosso barra arancione sono colorate in modo diverso quindi ha un comportamento proprio diverso aumenta e taglia tipo proprio l'ecolizzatore passivo classico che è il pull tech e q p 1 trattino a ora ah scusate non vi ho fatto vedere mettiamolo per esempio in una frequenza dove non fa quello scherzo lì abbiamo l'aumento proviamo regolare la pendenza da shelving a picco picco più stretto a shelving tipo analogico questo è un shelving più risonante quindi con pendenza maggiore e più risonante rispetto a questo shelving qua che è più dolce infatti vedete che crea anche lui questo avvallamento quindi anche la posizione qui la scelta dello shelving più dolce allo shelving più analogico quindi più risonante analogico vintage intendevo scusate perché erano gli analogici vintage che erano molto ripidi quindi creavano questa pendenza e questa risonanza intendo questa poco prima della frequenza di intervento e lo si regola appunto con questo potenziometro quindi è sicuramente da tenere in considerazione proviamo le medio alte siamo impostati a 2 2 2 kilohertz virgola 2 vedete che da 0 piccoli incrementi curva molto ampia tipo ipi man mano che aumentiamo la q si stringe ma di parecchio anche guardate e guardate come si stringe al massimo guardate la punta com'è rispetto ai bassi valori che era una curva così blanda quindi veramente impressionante e anche qui banda larghissima si stringe sempre di più tutto a destra banda stretta che però a sua volta diminuisce vedete man mano che diminuisco il gain e lo stesso credo valga anche in cutting vediamo se è vero si si stringe un po' meno in cutting rispetto all'additing però anche qui varia la sua punta il suo q diciamo proviamo il medio basso impostato per esempio 390 giusto per capirci anche qua vedete bassi valori campana molto aperta che è un classico degli ecolizzatori passivi man mano che aumento vedete come si stringe la campana quindi volendo possiamo anche tagliare delle frequenze non dico fastidiosi risonanzi non è un ecolizzatore che nasce per essere così chirurgico come ad esempio un filter pro q3 tanto per intenderci però comunque con questa punta di campana con questo stringimento di q di campana riusciamo comunque a togliere abbastanza bene delle frequenze pungenti quindi non è proprio chirurgissimo ma un pochino chirurgico lo è ok è un tone shaper questo qua più che altro perché insieme al drive e al gain al gioco di drive e gain che aggiunge appunto l'armonica che vi ho fatto vedere prima diamo un bel colore alla nostra traccia più che altro è questo il ragionamento proviamo i bassi impostati per esempio a 47 terzo tipo se avessimo una cassa proviamo a aumentare con campana larga anzi no siamo in shelving qua e quindi shelving diciamo più dolce infatti vedete abbiamo la frequenza di intervento che è intorno qua vedete qui c'è l'aumento e qui la diminuzione intorno ai 495 hertz aumentiamo vedete io ho impostato 47 hertz però guardate da dove parte da 500 hertz ad aumentare con campana dicevo con shelving dolce abbastanza blando mi sposto verso destra per uno shelving di tipo analogico vintage e vedete che crea questo avvallamento poco prima della frequenza di intervento che in questo caso è appunto 36 hertz quindi da 36 in su aumenta vertiginosamente vedete curva molto ripida ma da 36 in giù crea questo avvallamento intorno ai 50 hertz per poi intorno ai 77 hertz riaumentare quindi qui a 166 hertz abbiamo un boom di nuovo cala a 50 aumentano le 36 e aumenta anche intorno ai 160 hertz se invece vedete torno al valore di prima vedete che non mi fa più quel gioco lì questo se in shelving se lo metto in picco chiaramente si comporterà da picco aumento sono al massimo la banda rimane molto larga però vedete una banda molto larga perché sono in picco ma largo se metto in picco stretto vedete com'è il comportamento se lo metto in stretto perché se siamo in bell e qui siamo tutto a destra col potenziometro vuol dire che la campana è la più stretta possibile infatti vedete che la campana è stretta ma anch'essa come gli altri potenziometro come gli altri filtri man mano che aumenta il q si stringe man mano che diminuiamo il q si allarga abbastanza caratteristico come comportamento poi vediamo l'i pass filter e il low pass filter non è possibile regolare la pendenza è fisso vediamo beh un meno 18 c'è però come ripidità vedete come 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 taglia 22 39 68 120 220 e il low pass filter che vedete che caratteristico comincia a tagliare ma aumenta poco prima la frequenza di taglio anche questo low pass filter è caratteristico qua addirittura aumenta leggermente ma in questo caso cala poco prima la frequenza di taglio hanno proprio qui aumenta vedete e taglia aumenta e taglia e cala quindi aumenta poco prima prima dell'aumento cioè è molto caratteristico probabilmente è il comportamento vero della macchina emulata quindi dell'ecolizzatore manley quindi questo è il low pass filter e questo è l'i pass filter il mi sono dimenticato di farvi vedere il transformer vi ho fatto vedere l'1 prima tutto al massimo non vi ho fatto vedere il 2 vi ricordo che ho l'over sampling attivo su 4x ok il 2 circuito 2 vediamo se cambia qualcosa abbiamo sempre la frequenza 2000 che è multiplo di 1000 quindi è pari sempre 3000 quindi è dispari sempre 4000 multiplo della 2000 quindi è pari sempre 5000 è dispari eccetera eccetera scorriamo la veloce 1 si cambia appena appena un po il gioco delle armoniche 2 se guardate 1 2 cambia un pelo forse l'andamento vedete il suo e giù dei volumi delle armoniche ma una grandissima differenza non la vedo tenete comunque conto non sto dicendo che non siano diversi sto dicendo visivamente e da vedere così non sembra ci sia una grandissima differenza in realtà basta che tra una armonica e la successiva ci sia anche solo qualche piccolo dislivello piccola differenza di gioco di volumi e già il segnale il mio suono finale cambia e attenzione non sto dicendo che non siano diversi sicuramente i due suoni saranno diversi bastano dei piccoli su e giù che tra uno e tra il primo e il secondo siano diversi e la componente finale del suono è diversa ok è proprio sta proprio lì il gioco delle armoniche comunque questo è l'ecolizzatore della pulsa secondo me è molto valido ripeto anche per oggi è tutto vi ringrazio alla prossima